...ad essere presentato da Piarala, che è la partecipanza agraria di Nonandola, mille anni di storia tra archeologia e ambiente, è presentato dalla scuola, istituto comprensivo Fratelli Cervi, scuola secondaria di primo grado, danza di piedi di Nonandola e il museo di Nonandola. Questo è un progetto molto articolato, che ha coinvolto molti ragazzi, e che tratta che tra ambiente e archeologia ha risoperto la partecipanza agraria di Nonandola. I partner, che sono stati credo molto importanti in questo caso per questo progetto, sono appunto la partecipanza agraria di Nonandola, il museo benedettino di Nonandola, il diocesano di Arte Sacra, centro di attraverso la sostenibilità. La soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, che è anche rappresentata, l'Università Cacosca di Veneto e il Consorzio della Bonifica Madurana. I ragazzi sono stati accompagnati in scambi archeologici, per cui la soprintendenza ha avuto un grosso peso. Passo la parola a Chiara Saloni. Buon pomeriggio a tutti.